Si sono svolti a Benevento i campionati regionali individuali riservati ai cadetti e alle cadette e i campionati regionali individuali e di società delle categorie ragazzi, ragazze, esordienti, maschi e femmine di corsa campestre. Tra le cadette sui due chilometri ha vinto Gerardina Spinelli, atletica Agropoli, nella classifica di società categoria ragazze, secondo posto per l'Isaura Valle dell'Irno con 115 punti. Tra le ragazze, primo gradino del podio per Chiara Rita Bassano, Isaura Valle dell'Irno, nella categoria esordienti maschi sulla distanza degli 800 metri, secondo posto per Luigi Franco, Agropoli Running. Tra le esordienti femmine, medaglia d'argento per Maria Elisabetta De Rosa, idea atletica Aurora e medaglia di bronzo per Ima Jovine, Agropoli Running. In gara a Benevento anche la categoria assoluti, sempre di corsa campestre. Tra le donne sulla distanza dei 4 chilometri, il successo è andato a Erika Sorrentino, tesserata dell'Agropoli Running.